benissimo buongiorno allora buongiorno a tutte e a tutti benvenuti e benvenute al primo incontro del 2024 di ottocentismi e un benvenuto particolare a marco malvestio e stefano serafini che sono i nostri speaker di oggi prima due parole su ottocentismi network interdisciplinare che intende promuovere lo studio della cultura italiana del lungo ottocento informazioni sul nostro network trovate al sito che vedete anche qui indicato ottocentismi.org e vi invitiamo se non siete ancora iscritti a iscrivervi alla nostra mailing list per avere informazioni sugli eventi che organizziamo per quanto riguarda appunto questo semestre abbiamo avremo un secondo incontro il 13 aprile si terrà eccezionalmente di sabato perché si tratta di una giornata di studi dedicata al film di marco bellocchio rapito giornata cui parteciperà lo stesso regista è un evento che è stato organizzato insieme all'ice maggiori dettagli seguiranno quindi stay tuned come diciamo sempre niente veniamo allora all'evento all'incontro di oggi come vedete il titolo ripensare il gotico italiano abbiamo il piacere di ospitare io sono particolarmente contenta di avere marco malvestio e stefano serafini che tra l'altro vedo per la prima volta siamo stati incontrati molto per email ma non ci siamo mai incontrati che sono i curatori di un volume come dicevamo prima veramente davvero prezioso e importante intitolato appunto italian gothic vedete qui la copertina ed edinburgh companion è un volume che appunto è stato pubblicato nella collana edinburgh companion to the gothic della edinburgh university press e vi leggo come viene definita dagli editori questa collana si dice volume in the series are edited by leading scholars in their field and make a cutting edge contribution to the field of gothic studies e beh questo concetto diciamo di cutting edge dell'essere appunto innovativo è senz'altro credo qualcosa che si adatta perfettamente al volume italian gothic dal momento che come scrivono gli stessi curatori nell'introduzione l'espressione gothico italiano è stata per tanto tempo considerato uno simoro sostanzialmente spesso appunto critici e autori italiani hanno considerato il gotico nel contesto della letteratura della nostra letteratura appunto è assolutamente diciamo che è stato un errore clamoroso e il loro progetto appunto capovolge completamente questa questa lettura prima di dare a loro la parola una breve presentazione dei nostri speaker quindi Marco Malvestio è ricercatore in critica letteraria e letterature comparate all'università di Padova dove ha conseguito anche il dottorato è stato post doctor fellow all'università di Toronto a Padova e anche North Carolina e Chapel Hill è autore di due monografie The Conflict Revisited The Second World War in Post Postmodern Fiction uscito con Peter Lang nel 21 e Raccontare la fine del mondo Fantascienze Antropocene è uscito con Notte e Tempo sempre nel 21 ha inoltre curato due volumi uno insieme a Valentina Sturli vecchi maestri e nuovi mostri tendenze prospettive della letteratura horror all'inizio del nuovo millennio e insieme a Emiliano Guaraldo e Daniel Finch Reis ha curato Italian Science Fiction and the Environmental Humanities passiamo Stefano Serafini che è ricercatore in letterature comparate presso il dipartimento di scienze storiche dell'università di Padova ha ottenuto il PhD presso la Royal Holloway University of London ed è stato post doctor fellow all'università di Toronto e all'università di Warwick ha pubblicato diversi articoli su riviste quali Italian Studies, The Italianist, Quaderni del Novecento, Transalpina e anche review della letteratura europea bene quindi passo ora la parola agli speaker ricordo il formato, i nostri incontri sono della durata di un'ora e quindici minuti c'è appunto una presentazione e poi lo spazio per il Q&A penso che forse Marco e Stefano magari gradiranno forse iniziare anche prima eventualmente il confronto con i partecipanti però vediamo, lascio a loro la parola e poi proseguiamo grazie Marco e Stefano a voi io provo un pochino a raccontare non tanto il background del volume in sé e la creazione ma più da dove proviene in generale il ripensamento del gotico italiano nel senso che io ho iniziato a occuparmi di quantomeno un certo tipo di produzione letteraria con il dottorato e però quello che a me aveva sempre colpito è che comunque, come dire, avendo entrato tanta letteratura inglese e tanta letteratura gotica nel periodo classico, insomma il gotico nella letteratura del periodo classico va dal 1764 circa al 1818 quindi da Wockel fino a Frankenstein è che comunque l'Italia a un osservatore dell'Ottocento era un posto straordinariamente gotico diciamo nel giro di due secoli commentatori, scrittori, viaggiatori avevano contribuito a cristallizzare l'immagine di un paese per quanto ovviamente non ancora unificato quindi ovviamente molto frammentato dal punto di vista linguistico e quindi diviso ma un paese multiforme caratterizzato dalla sopravvivenza di credenze, di superstizioni l'oscurantismo cattolico, degenerazione, violenza, devianze sessuali e se ci pensiamo, è vero, Anne Radcliffe non aveva mai viaggiato in Italia ma Roswell aveva viaggiato con Thomas Gray tra il 1939 e il 1941 ma c'erano tanti altri commentatori come John Moore ma penso anche a Charles Dickens che comunque nel 1846 quando scrive Teachers from Italy parla dell'amministrazione della giustizia, della devianza e della violenza soprattutto nelle strade però al tempo stesso, nonostante tantissimi romanzi gotici del periodo classico erano ambientati in Italia e quindi non solo appunto viaggiatori e commentatori ma anche scrittori e davano un certo tipo di rappresentazione al paese l'Italia, e questo lo abbiamo letto tutti insomma soprattutto grazie a quello che ha scritto Fabio Camilletti negli ultimi dieci anni è un paese che si è sempre costruito nell'ideale del rigore filosofico della misura, dell'equilibrio e quindi di un certo tipo di eleganza tutto il contrario di quello che a me ha sempre quello che insomma rappresenterebbe il gotico dal punto di vista non generico ma modale quindi tutto ciò che ha a che fare con il contaminato con il malato, col trasgressivo, con il sovversivo, con il criminale e studiando diciamo il periodo immediatamente post-unitario ma anche il periodo precedente insomma se pensiamo alla polemica classico-romantica e al tipo di costruzione dell'identità culturale italiana alla fine del periodo della polemica cioè dove nessuna delle due forze in gioco emerge e prende il potere ma piano piano questo conflitto finisce in una sorta di riconciliazione tra quella che dovrebbe essere una tradizione italiana e una serie di influence straniere però il risultato è che comunque tutto quello che appartiene al gotico tutte quelle istanze nordiche, soprattutto la letteratura inglese e tedesca vengono un po' espulse dalla storia della letteratura italiana e anche nel periodo invece non da, diciamo in questo caso parliamo della cultura ma anche se parliamo a livello politico-sociale quello che il paese fa all'indomani dell'unificazione è combattere tutto quello che secondo gli intellettuali, gli scienziati e i commentatori rappresentava un ostacolo nei confronti del processo di secolarizzazione e modernizzazione del paese quindi anche qui lo scolantismo cattolico, le superstizioni, le credenze e un certo tipo di devianza, particolarmente in certe zone del paese e per cui, come dire, si è sempre cercato da un punto di vista sia di autorappresentazione ma anche a livello politico e sociale di espellere di quello che io considero e che noi vediamo appunto come gotico e quindi anche la storia della letteratura italiana è una storia e dopo questo ce ne dirà meglio Marco quando parlerà del dibattito se ci vuole parlare sulla del dibattito il gotico è sempre stato non solo ai margini ma c'è stato un tentativo di espulsione di tutto quello che ha a che fare nella letteratura italiana con l'orrore, con il soprannaturale, con il trasversivo al massimo ridotto attraverso i filtri dell'ironico e dell'elegante e della misura classica però nella realtà e nel periodo appunto di cui poi mi sono occupato quello che fa principalmente dall'unità fino alla prima guerra mondiale il gotico non viene espulso viene diciamo rilocato all'interno di tutti quegli ambienti che erano considerati sicuri perché sotto il controllo, sotto il soggetto dello sguardo medico e del controllo disciplinare le prigioni, le corti di assise, gli istituti di salute mentale i teatri durante gli spettacoli di magnetismo oppure le stanze durante le sedute spiritiche dove comunque c'erano i grandi scienziati l'ombroso in primis oppure le zone più pericolose, più violente delle città magari le zone più povere dove ci andavano i cosiddetti palombari i sociologi, per usare un'espressione di Paolo Valera dove si entravano nel sottobosco nel ventre delle città la ricerca per studiare e per analizzare personalità, usi e costumi però appunto questo tipo di dinamica fa sì che il gotico non scompare ma va ad infiltrare tutta una serie di discorsi tutta una serie di spazi che non sono solo letterari sono ovviamente in parte letterari ma ci sono anche tutta una serie di spazi sociali politici e scientifici e il volume prova in parte a mappare ovviamente ci sono tutta una serie di spazi che non abbiamo potuto esplorare per una serie di motivazioni principalmente per mancanza di studiosi di un certo tipo di materiale e come diceva giustamente Marco magari rifacendolo ora o rifacendolo tra cinque anni la situazione sarebbe un pochino diversa però ecco la cosa principale è questo tipo di immagine che il Paese a partire dalle sue diverse costruzioni ha sempre provato a dare è quello che invece è effettivamente non solo appunto la letteratura ma l'intera cultura italiana e il modo in cui il gotico permea e anche influenza tutto il suo processo di costruzione dello Stato dall'unità dall'unità in poi Sì, io diciamo che beh, intanzitutto vabbè ovviamente volevo ringraziare volevo ringraziare l'organizzatrice di Ottocentismi per averci invitato per averci dato modo di di parlare questo libro tutti gli amici che vedo qui che sono convenuti anche quelli con la telecamera spenta e soprattutto è vero con Morena ormai abbiamo uno scambio epistolare di un lustro quasi ma è la prima volta che parliamo a viva voce quindi insomma a maggior ragione un piacere dunque io vengo da una posizione un po' diversa cioè, o meglio non da una posizione da un retroterro un po' diverso da quello di Stefano nel senso che appunto Stefano si è formato durante il suo dottorato anche su letteratura ottocentesca prevalentemente su crime fiction io nel momento in cui abbiamo cominciato a ragionare su questo volume sulla possibilità di fare questo volume in realtà io mi stavo occupando di fantascienza italiana e di environmental humanities che è stato poi l'argomento su cui ho fatto su cui ho sviluppato il lavoro durante gli anni della borsa Marie Curie che ho terminato da poco la fantascienza ovviamente è molto distante dal go cioè non necessariamente poi ci sono anche punti di contatto e tutto quanto ma diciamo che è un'altra cosa rispetto al gotico di solito non sono due discorsi che vanno insieme e la fantascienza italiana ha maggior ragione che è una cosa che nasce a partire dagli anni 50 è piuttosto distante del gotico come lo si intende normalmente quello che però a me ha colpito diciamo così della consonanza tra le due cose è lo statuto culturale di queste due forme della fantascienza da una parte e del gotico dell'horror ma diciamo così del modo gotico e delle sue varie manifestazioni attraverso i secoli una cosa che a me aveva diciamo così lasciava particolarmente insoddisfatto dal punto teorico è il fatto che nel novecento italiano la categoria prevalente con cui si sono andati a vedere una serie di testi è stata quella del fantastico in Italia e su questo fa fede insomma il lunghissimo e ricchissimo volume curato da Stefano Lazzarin e altri qualche anno fa che ricostruisce in maniera veramente capillare con una bibliografia commentata gli estremi del dibattito sul fantastico in Italia è un libro di quasi mille pagine e che dà appunto l'idea di quanto ricco è stato questo dibattito dagli anni ottanta oggi e quindi sostanzialmente a partire dalla traduzione del libro di Todorov sul fantastico che se non ricordo male viene fatta in 79 76 77 ecco vabbè vedete bene che io sono un turista del gotico e a differenza di Stefano la questione del fantastico secondo me secondo noi ha posto dei paletti molto rigidi alla valutazione critica di tutta una serie di cose perché il fantastico come è stato inteso in Italia anche non da lettori diciamo così squisitamente Todoroviani anche per esempio da Francesco Orlando anche da Italo Calvino e così via è sostanzialmente un genere intellettuale un genere alto una categoria metastorica e soprattutto è un genere esclusivamente letterario perché il fantastico così come concepito da Todorov è sempre solo riferito a testi letterari mentre il gotico lo sappiamo prima di tutto non coincide col fantastico cioè ci sono tanti testi gotici che di sopranaturale non hanno nulla ovviamente ma in cui il dispositivo del ritorno del represso agisce comunque con grande forza e questa è la prima cosa la seconda cosa ovviamente è che il gotico è una forma transmediale che era anche quello su cui a noi interessava interessava rimarca interessava insistere quindi diciamo il senso di questo volume nasce dalla nostra familiarità dal nostro interesse verso uno strumento critico che è la teoria gotica così come è stata sviluppata negli ultimi decenni in ambito anglosassone e vedere che cosa poteva uscire applicandolo a un corpus a un corpus più o meno noto quindi sia che cosa poteva far dire a certi testi e quindi per esempio noi nel nostro libro abbiamo discussioni di Manzoni come autore gotico di Verga come autore gotico e così via ma anche che tipo di corpus poteva poteva portare alla luce tra quelli che non sono normalmente studiati e per esempio tutto il capitolo di Fabrizio Foni è dedicato a produzione adesso andiamo a vedere l'indice così descriviamo anche un po' cosa c'è in questo volume ma è dedicato a produzioni che non sono produzioni canoniche che compaiono su gazzette che compaiono su rivista su domenicali e così via quindi a noi sembrava che usare una serie di categorie critiche affinate diciamo così recentemente in altri ambiti permettesse di far venire alla luce quello che effettivamente è un represso nel discorso culturale italiano perché di gotico in Italia ne è stato prodotto tantissimo di diciamo così testualità fumettistiche letterarie cinematografiche musicali ma non solo afferenti al gotico ne sono state prodotte in maniera massiccia e in più delle volte non sono state o riconosciute come tali oppure non sono state riconosciute punto perché una categoria invece critica come quella di fantastico tutto quello che non è letterario o peggio ancora la letteratura così dire popolare non la riconosce punto quindi a noi interessava fare diciamo così questo esperimento e tutto sommato è stato un esperimento abbastanza riuscito vi faccio vedere l'indice del volume se va bene condivido lo schermo ok state vedendo solo solo il il pdf vero non tutto il desktop sì ok ecco allora noi abbiamo fornito appunto una piccola introduzione teorica che sostanzialmente riassume quello che vi abbiamo che vi abbiamo detto finora e poi abbiamo diviso il volume in tre parti sostanzialmente una parte storica una parte dedicata ai vari media del gotico e una parte dedicata invece ad alcuni temi ricorrenti secondo noi preponderanti la parte storica appunto sei capitoli scritti da Fabio Camelletti Morena Stefano Fabrizio Foni Roberto Curti e io coprono diciamo così il gotico dagli inizi del gotico cioè da comunque la 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 metà del settecento con cui effettivamente inizia anche il romanzo gotico vero e proprio in ambito in ambito anglosassone e appunto va a vedere una serie anche di capisaldi no letterari italiani cioè appunto il il capitolo di Camilletti Fabio si occupa si occupa molto di manzone che poi tra l'altro è una cosa su cui è tornato anche spesso in questi anni Morena Morena ha scritto su 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 Guerrazzi per esempio che è un autore tutto sommato tutto sommato trascurato ho un po' dimenticato il nostro ottocento ma che in tema di sensibilità gotiche è ovviamente ovviamente centrale e così via adesso insomma non voglio farvi riassunto capitolo per capitolo per quello che riguarda i media siamo andati invece abbiamo provato a isolare come il gotico si manifesta in in vari spazi mediali diversi perché anche questo è interessante no a differenza di un modello come quello del fantastico in cui c'è una predominanza schietta del letterario qui certamente abbiamo un bel capitolo di Simona di Martino sulla poesia gotica abbiamo il capitolo di Fabrizio Foni sulle pubblicazioni su periodici che però ovviamente nella così considerati i pregiudizi dei critici italiani verso appunto verso la letteratura popolare di fatto stanno a parte cioè sono testualità letterali che però stanno a parte rispetto a quelle così dire del canone abbiamo il cinema gotico ovviamente scritto a Giulio Giusti il fumetto il gotico e invece un capitolo sulla musica gotica che avrebbe potuto essere un capitolo sulla musica got e invece è un capitolo però intente su heavy metal su prog e heavy metal insomma ovviamente poi ciascuno di queste esplorazioni ha poi preso una piega specifica ne avrebbe potute prendere molte altre per quello che riguarda i temi ci sono i due capitoli di Katrin Ramsey Portolana e di Francesca Bigliani che per molti versi sono in dialogo tra loro la questione del corpo gotico e la questione del female gotico che sono ovviamente due questioni su tente centrali nei discorsi teorici sul gotico c'è ovviamente il capitolo di Stefano su su gotico e la crime fiction e io ho scritto questo capitolo su sull'ecco gotico quindi su il ritorno di un represso ecologico all'interno del del romanzo gotico di nuovo come suggerisce la nostra lista di contributori c'era una certa scarsità di manodopera con cui fare i coent per cui appunto diversi di noi si sono si sono ritrovati a fare due due capitoli ciascuno abbiamo coinvolto appunto due persone come Roberto Curti e Edoardo Vitolo che non sono non sono accademici sono independent scholars e così via però appunto speriamo con questo volume di essere riusciti a dare un po' di a fare diciamo cominciare a fare circolare questa categoria anche all'interno dell'italianistica o più verosimilmente degli Italian Studies e appunto con la speranza che questo libro non resti poi un lavoro a sé ma che possa essere anche poi magari o arricchito o contraddetto o così via questa era una breve overview non so riprendo brevemente parola solo per ovviamente grazie Marco per aver descritto il volume probabilmente non ha letto i miei capitoli visto che appunto il mio capitolo è sulla criminologia gotica non la grand stage abbiamo falsi aspettative ai lettori insomma sulla criminologia principalmente sulla scienza di Lombroso ovviamente era un lapsus quindi sto scherzando il volume ecco è un volume solo per chiudere insomma poi magari iniziamo con un pochino di discussione è un volume che parte da abbastanza lontano poi questo lo scriviamo all'inizio è un volume che nasce nel 2019 io chiedo a Marco se voleva fare questo volume con me dopo aver avuto il benestare di Fabio Camilletti che senza il quale insomma questo tipo di lavoro non si poteva fare e iniziamo a lavorarci ora è insomma siamo nel febbraio del 2024 sono passati quasi 5 anni e tanto è successo devo dire in questi 5 anni sia perché comunque in alcune università soprattutto anglosassoni il il gotico italiano inizia ad essere preso in considerazione e ci sono anche dottorandi o chi ha preso il dottorato e alcuni sono insomma sono qui con noi che li vedo e quindi questa è una cosa molto importante dall'altra ci sono anche tutta una serie di testi che stanno iniziando a venire fuori non solo a partire testi di dottorato ma anche ma anche appunto testi di di carattere accademico e non anche per casi elettrici diciamo più più generaliste e questo secondo me non è dovuto ovviamente per nulla al nostro volume che è appena insomma che è appena uscito in opera è uscito da una decina di mesi quindi ancora questo tipo di lavoro non può averlo fatto però ci auguriamo insomma che che possa essere quantomeno un punto di partenza ovviamente non potrà può essere solamente un punto di partenza ma è un punto di arrivo perché come detto implica tutta una serie di scelte anche arbitrarie anche difficili di testi e di approcci e di metodologie quindi io ovviamente prima di come dire chiudere questa breve presentazione del libro ringrazio sia chi ci ha invitato perché è stato davvero molto bello ricevere l'invito alla presentazione del libro e anche tutti quelli insomma che stanno partecipando tutte queste cose che di cui ho parlato brevemente all'inizio io le ripeto nel mio libro insomma che io mi auguro e spero sarà terminato entro la fine del 2024 che è appunto sul gottime in Italia più a livello culturale insomma non solo letterario e quindi mi auguro magari prima o poi di tornare qui a parlarne quindi dopo questa pubblicità sfacciata e come dire un po' di cui un po' mi pento e mi vergogno insomma direi che possiamo non so magari inizia a dialogare con insomma con chi ci ha invitato rispondere a qualche domanda poi di estendere un pochino anche agli altri benissimo grazie grazie mille se posso magari inizio io con una domanda che torna su un problema annoso che quando mi sono trovata a scrivere appunto di fantastica e gotico la prima volta io ho un po' driblato confesso il problema appunto delle definizioni voi appunto ne parlate chiaramente nell'introduzione è stato accennato anche prima volevo magari chiedervi se potevate parlare un attimo di più e specificare perché allora sappiamo che il rapporto tra gotico e teoria è sostanzialmente un rapporto che è molto profondo dalle origini sostanzialmente dall'introduzione famosa di Walpole si stabilisce questo connubio gotico teoria che poi si traduce e si declina in vario modo ma c'è anche una cosa importante che voi dite questa distinzione tra genere e modo io diciamo come allieva di cesarani sono cresciuta con l'idea che appunto il genere il gotico è un genere mentre il fantastico è un modo questa è chiaramente poi una dicotomia che nel tempo si è rivelata problematica e voi giustamente mostrate anche in questo volume come appunto il carattere modale del del gotico perché appunto il il gotico citando Ogle è qualcosa non è tanto qualcosa che è ma qualcosa che fa dobbiamo vedere che cosa fa il gotico nel testo in un determinato contesto volevo sapere se magari potevate dire qualcosa di più a questo proposito pensando anche appunto che il volume non riguarda soltanto appunto il gotico in letteratura ma appunto come avete detto in varie medie si parla di cinema di fumetti musica eccetera quindi come possiamo vedere appunto il rapporto diciamo la lettura teorico l'inquadramento diciamo teorico del gotico in questi in questi contesti beh questa appunto è una domanda molto complessa è una domanda che di fatto è una premessa necessaria almeno secondo me a qualsiasi lavoro sui generi letterari io appunto quando mi sono occupato di fantascienza sono partito da qui cioè che cos'è la fantascienza io credo nelle definizioni credo anche nelle definizioni tutto sommato fino a un certo punto nel senso che è necessario ovviamente darsi cercare di chiarire in astratto che cosa sono però di fatto anche quando si parla di generi letterari c'è anche una questione di ricezione la fantascienza per esempio hai sicuramente la letteratura dello straniamento cognitivo come diceva Darko Subin ma è anche come diceva Norman Spirad tutto quello che viene venduto come fantascienza il gotico presenta secondo me un problema ulteriore nel senso che il gotico è senz'altro un genere anche proprio un genere editoriale anche dal punto di vista editoriale cioè è un voglio dire io se io adesso cerco su google cinema gotico trovo un sacco di cose cioè un romanzo gotico contemporaneo è diverso una cosa un po' diversa da un romanzo dell'orrore contemporaneo no un romanzo dell'orrore può essere può avere tante forme tra cui un po' anche quella del romanzo gotico che esibisce quindi una serie di di come dire di troppi di elementi testuali di luoghi comuni eccetera eccetera c'è una stagione di cinema gotico italiano che è separata dal resto diciamo così del cinema dell'orrore del thriller italiano proprio perché è un tipo di cinema che cerca di riattivare una serie di diciamo così spie prese da una tradizione una tradizione letteraria però allo stesso tempo il gotico non è solo questo del motivo per cui in questo libro si riesce a o almeno noi cerchiamo di di trovarlo anche in testi che dal punto di vista così dire editoriale della ricezione non appartengono affatto al 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 gotico e a quella e a quella tradizione soprattutto in riferimento diciamo così a quello che diceva anche Stefano prima quindi alla cultura italiana come una cultura che si autopercepisce come razionale diciamo così solare come una cultura che eredita appunto la tradizione della misura greco-romana il il gotico in questo senso diventa sì certo un ritorno di un represso ma non di un diciamo così non di tutti i repressi ma è così ma di di quanto è invece irrazionale di quanto è incontrollabile di quanto è abietto io per esempio ho scritto di verga come un autore secondo me diciamo così leggibile con i parametri di quello che oggi chiamiamo ecogotico perché è un autore in cui la gentività del non umano si manifesta con delle forme che spesso prendono diciamo appartengono al campo metaforico del mostruoso dell'incontrollabile addirittura dello spettrale chiaramente verga non è un autore gotico però è leggibile con questa categoria quindi essendo anche un autore che poi è stato letto anche con le categorie almeno in parte del decadentismo e così via questo per esempio è un modo di applicare il modo gotico a un testo che gotico non è questo ecco e ovviamente è una lettura che non sarebbe possibile fare con la categoria di fantastico che in Italia ha una tradizione forte ha una tradizione anche illustre e ovviamente cioè anche il lavoro di uno studioso come Remo Cesarani in una certa misura prepara la possibilità di discutere questi testi in questo modo però di nuovo è una categoria prima di tutto che si concentra sulla dimensione soprannaturale reale o presunto nel testo e secondo che si limita al testo a noi invece interessava mostrare che questo tipo di processi di processi culturali di fatto sono presenti a livello macroscopico cioè c'è una continuità per esempio negli anni 50 negli anni 60 tra il mondo del fumetto il mondo del cinema il mondo della musica e in parte anche il mondo letterario ma un certo tipo di mondo letterario non tutto e questa è una continuità insomma non secondaria sì sono cioè insomma sono sicuramente d'accordo perfettamente con quello con quello che dice Marco ed è chiaro che la distinzione che Cesarani fa soprattutto insomma del volume insomma del volume 2 e 7 sull'Italia in Gothic che è fantastica ovviamente ha aperto necessariamente le strade poi anche anche al nostro e che sostanzialmente è l'unica cosa che era stata scritta non solo in lingua inglese ma in generale utilizzando la parola gotico e raffiancarlo alla cultura italiana però ecco diciamo la problematica di Fantastico non è solo tanto quella di essere utilizzata su testi letterari e basta ma su un certo tipo di testi letterari perché comunque nel Fantastico Cesarani dice che la letteratura popolare è contaminata è contaminante e se noi andiamo a cercare i testi che analizziamo nel nostro companion è difficile trovare anche autori canonici non solo voglio dire che sia quasi tutta esclusivamente letteratura popolare che è comunque un termine ambiguo ovviamente per soprattutto insomma nell'Ottocento perché scrivevano le riviste nell'appendice dei giornali ovviamente non solo Mastriani e Invernizio però il problema di Fantastico è che comunque è associato a un certo tipo di letteratura alta di letteratura che utilizza un certo tipo di filtri di armi come può essere ad esempio un punto di ironia che è quello che dice sostanzialmente Calvino e quindi questo fa sì che si si tirino fuori tutta una serie di prodotti culturali che ovviamente posseggono tutta una serie di elementi gotici che non sono necessariamente testi romanzi scritti di qualunque tipo anche scientifici che possono essere definiti gotici per sé ma contengono tutta una serie di elementi legati al gotico e che permettono quindi un tipo di analisi che ovviamente la categoria del fantastico non permette e quindi e poi comunque il fantastico ecco non vorrei dire un'eresia però ecco il fantastico in ambito anglofono ha una tradizione piuttosto marginale quantomeno rispetto al gotico insomma dagli iscritti di David Panter alla fine degli anni all'inizio degli anni 80 perché il primo volume dell'iteral dell'iteral 80 poi la versione revisionata del 96 però ecco in lingua inglese e comunque nel contesto accademico inglese la parola fantastico si trova meno rispetto alla parola gotico in Italia la parola gotico non si trova ovviamente perché c'è tutta una serie di scritte a partire da Todorov che ha formato un certo tipo di studiosi per cui diciamo che all'inizio all'inizio del volume io avevo specificatamente richiesto avevo bandito la parola fantastico l'unico che l'ha usata credo sia stato Fabrizio Foni però credo che sia l'unico caso perché naturalmente non volevamo creare un certo tipo di ambiguità che secondo me nelle discussioni in cui fantastico e gotico si alternano ovviamente questo genera necessariamente penso per esempio agli scapigliati siamo ai racconti di di Tarchetti anche cioè il termine gotico e fantastico spesso si alternano si sovrappongono le definizioni quando entra appunto il fantastico nella letteratura italiana entra anche il gotico ma dove dove sta il confine quindi però penso che sia fondamentale anche quello che voi mettete in evidenza a partire sono uscito anche dalle vostre presentazioni è proprio il rapporto letteratura o cultura alta e cultura bassa che il gotico sostanzialmente alla fine scardina e già appunto di nuovo a partire da Walpole le due cose queste due dimensioni sono difficilmente separabili in te volevo sapere se abbiamo domande commenti qualcuno posso fare no scusate non riesco a trovare ho cambiato il computer e non riesco a trovare la manina ora per alzare sì io avrei una domanda innanzitutto un commento complimenti non ho ancora ricevuto non ho ancora visto il volume non ho proprio le mie mani quindi non l'ho ancora letto però da quello che vedo nell'indice che avete mostrato veramente molto molto interessante soprattutto mi è piaciuto molto il modo in cui avete configurato i vari capitoli una domanda per tutti e tre cioè Marco Stefano e Morena parlavi degli scapigliati Morena spesso quando si pensa al gotico si pensa al secondo ottocento e appunto Tarchetti Dossi e via dicendo e invece a me interessava e vedo che c'è molto nel volume però se poteste anticipare o dire qualcosa su quello che ha rappresentato proprio il gotico nel primo ottocento all'interno anche del dibattito sull'affermazione del romanzo visto come anche forma letteraria che veniva un po' da fuori dal nord Europa e quelle che sono poi le presenze del gotico non solo nel testo letterario perché si pensa al secondo gli scapigliati il testo letterario ma c'era anche moltissimo nei giornali all'inizio dell'ottocento attraverso le traduzioni ad esempio che arrivavano al pubblico quindi non so se avete se potete dire qualcosa un po' di più su questi due su questo aspetto di primo ottocento e il modo in cui si diffonde non solo attraverso il testo letterario grazie vuoi dire qualcosa tu Morena all'inizio visto che insomma ti sei occupata tu di inizio ottocento volevi dire qualche parola sì diciamo che appunto guardando la produzione di primo ottocento soprattutto il il romanzo il romanzo storico ma anche se vogliamo autori al tempo molto molto noti ma poi ormai decisamente sconosciuti come come Bazzoni la presenza del del gotico è davvero è davvero notevole e diciamo questo non è non è sorprendente perché sappiamo certo anche in altri lì di il rapporto tra gotico e romanzo storico a partire anche da Lukacs qualcosa di riconosciuto ma appunto nel contesto italiano che come è stato detto è tradizionalmente non recalcitrante ad accogliere il gotico ho trovato interessante come effettivamente la presenza del gotico fosse proprio pervasiva e anche appunto nei lunghissimi e al tempo popolarissimi vendutissimi romanzi di Guerrazzi davvero la varietà di immagini gotiche poi usate anche diciamo lo stesso Guerrazzi intende proprio farne un uso spesso didattico c'è anche questa sorta di consapevole impiego del gotico in un modo che poi insomma magari è discutibile ma meno magari si può trovare un riscontro dal punto di vista del dibattito nel senso che anche la famosa polemica tra classici romantici in realtà tende almeno sulla carta nelle dichiarazioni diciamo ufficiali appunto a escludere a rigettare questi tratti appunto della letteratura nordica che vengono visti completamente o frivoli o potenzialmente capaci di corrompere ma quello che io avevo trovato interessante per esempio nel caso di Ludovico di Breme il suo Romitore di Santida che poi non è mai diventato quello che sembrava dovesse diventare ovvero un romanzo compiuto ci sono delle pagine decisamente dal sapore molto molto gotico poi anche qui anche in questo in questo brevissimo scritto c'è per esempio il tratto il tratto ironico che molti poi hanno usato per escludere e dire questo non può essere gotico se c'è poi l'ironia che tende a prendersi gioco appunto di presunti spettri del terrore eccetera ma le atmosfere che Ludovico di Breme costruisce poi tra l'altro citando anche Lewis Matthew Lewis che aveva tra l'altro anche incontrato sembrano secondo me dire un po' il contrario e quindi mi sembra che ci sia proprio questo filo conduttore che attraversa gran parte della produzione di questi romanzi che dicono ma i casi chiaramente autori a volte completamente sconosciuti romanzi che poi come quelli di Guerrati nessuno ha più più riletto ma che al tempo davvero rappresentavano dei best seller e che erano insomma andavano comunque anche a proposito del discorso della ricezione che facciate prima che è senz'altro costitutivo del genere di quello che il gotico rappresenta certamente possiamo dire che c'era una cultura che era proprio imbevuta di questo gotico per molti versi non so se volete sì a livello di ricezione è ovviamente molto interessante perché comunque tutta la prima metà per quanto non sia ovviamente il periodo di cui mi sono occupato personalmente però tutto il periodo dei primi decenni dell'ottocento insomma dalle ricerche che avevo fatto anni fa nonostante appunto il clima non fosse particolarmente favorevole e la lettera insomma di Diti di Manzoni a Marchese Tattelio del 23 abbastanza celebre in questo senso di appunto rigetto rifiuto di un certo tipo di paradigmi di idee e di tematiche anche all'interno del testo letterario si vede una circolazione quantomeno una proliferazione di traduzioni dei classici del gotico in Italia negli anni dieci e soprattutto negli anni venti e l'ottocento ed è secondo me non coincidente che si tratti di testi che vengono pubblicati e che circolano principalmente al sud e nell'ambiente napoletano che è poi l'ambiente napoletano in cui cresce Francesco Mastriani che è probabilmente il più grande autore italiano gotico dell'ottocento perché comunque il mio cadavere è del 52 quindi è un testo preunitario e poi continuerà a scrivere fino all'inizio degli anni 90 e questo secondo me è interessante per quanto a livello poi di ricezione di un certo tipo di testi ci sia pochissimo perché comunque non è stato fatto uno studio di come il romanzo gotico classico circolassi in Italia nei primi decenni dell'ottocento sempre perché appunto culturalmente sembrava qualcosa di alieno e poi c'è tutta una serie di discorsi che non sono letterari qui ovviamente c'è tra di noi chi sta facendo una teglia su questo cioè sul mesmerismo in Italia tra 7 e 800 che è Gennaro Ambrosino e i discorsi sul mesmerismo che poi verrà riconcettualizzato come ipnotismo a partire dagli anni 50 e l'800 è tutta una serie che include tutta una serie di discorsi transnazionali e ovviamente extraletterari che però sono imbevuti di gotico che poi continueranno tutto il discorso sullo spiritismo a partire dal 1848 in poi che in Italia attecchiscono molto presto e che ingaggiano poi tutta una guerra tra religione e scienza che rappresenta un po' una delle caratteristiche principali dell'800 italiano sì accanto alla questione del mesmerismo ovviamente poi diciamo quello che nel nostro volume non c'è purtroppo sono sempre per i motivi che abbiamo detto di così la questione del gotico a livello visuale per esempio cioè noi non abbiamo incluso per mancanza di competenze non sapendo anche a chi chiedere e così via non abbiamo incluso per esempio un discorso quello sull'architettura che poi ovviamente sarebbe un altro mondo ma anche sulle arti sulle arti visive che per quello che riguarda diciamo così spettacoli di circolazione europea riguarderebbe anche le fantasmagorie sempre tra 8 e 900 questo sì ci sono altre domande commenti potete usare anche la chat se volete è una domanda io anzi una domanda piccola piccola ciao a tutti vi chiedo come sta andando la diffusione la discussione del volume in italia e la sottodomanda è la cultura che ha resistito alla definizione di gotico italiano per tutto questo tempo è ancora attiva e viene a contestarvi in una presentazione come vi state trovando il mio telefono non l'ha mai squillato posso dire quindi ecco non per ora la risposta è stata da parte cioè non lo so Marcos probabilmente ha ricevuto qualcosa in più però devo dire per adesso risposta tiepida lì devo dire che c'è un secondo me c'è un ostacolo tra virgolette anche di carattere disciplinare nel senso che tecnicamente sia io che Stefano siamo incardinati in un altro settore disciplinare io sono un comparatista quindi il mio dialogo con i colleghi di italianistica italiani non è così naturale mentre paradossalmente avendo io lavorato all'estero sempre in contesti di Italian Studies ho molti più contatti con italianisti che lavorano fuori dall'Italia che non con italianisti che lavorano in Italia e questo è sicuramente un limite ovviamente sono le strane segmentazioni diciamo così anche della vita della vita della vita universitaria e dopodiché sicuramente a parte insomma che comunque il volume è uscito da relativamente poco per essere un libro accademico insomma sono anche delle tempistiche delle tempistiche diverse però è vero tutte le attività di discussione e di dibattito insomma che abbiamo avuto su queste cose le abbiamo avute le abbiamo avute fuori dall'Italia includendo anche diciamo così ottocentismi che mi sembra essere un'iniziativa almeno binazionale ed è strano perché per esempio con la fantascienza è già leggermente diverso nel senso che delle parecchie iniziative anche che abbiamo fatto comunque ci sono anche tanti studiosi di appunto di italianistica più tradizionale che non disdegnano dei detour diciamo così nei bassi fondi della fantascienza secondo me quello che manca diciamo così perché poi questo libro in Italia possa essere discusso proficuamente è proprio anche una familiarità con la teoria del gotico oltre che con il gotico genericamente come una forma letteraria dello spaventoso eccetera quello sicuramente è forse un po' un po' un limite cioè chi si è occupato di questi testi in Italia tendenzialmente si è occupato come testi fantastici sì una questione di problemi disciplinari non so se sia anche un problema di lingua non so se il libro uscisse in italiano per un editore accademico non so quanto questo cambierebbe il dibattito però principalmente credo sia un po' uno scontro un po' una collisione a livello metodologico e anche il fatto che però anche con un problema disciplinare di settori credo che diciamo con il proliferare degli studi qualcosa potrebbe potrebbe cambiare però devo dire che comunque in Italia le cose non sono non sono cambiate negli ultimi negli ultimi anni ora qualcosa uscirà anche è uscito uscirà anche qualcosa su diciamo il gotico insomma per dire l'Italia Lunare di Fabio Camilletti è uscito in italiano per quanto sia uscito per Peter Lang è chiaro che la circolazione che hanno un certo tipo di volumi accademici in Italia è comunque marginale ora se insomma Zoni gotico esce per sono fantasmi insomma Spezia d'Italia i vari volumi che Fabio Camilletti sta tirando fuori mi sono 15 adesso non mi ricordo tutti i titoli però escono in italiano escono per determinate case editrici magari c'è anche se come c'è nella sua introduzione un dialogo nel nostro testo magari questo potrebbe creare una sorta di ponte probabilmente è ancora presto per insomma sì è ancora presto però devo dire che non siamo stati invitati a discussioni in Italia sul volume questo è un fatto per ora non ancora no diciamo che l'altro ostacolo probabilmente è anche un po' il fatto che appunto prima l'ho detto insomma un po' come una battuta però cioè Italian Studies come categoria di fatto è una categoria che copre diciamo così studi di cose italiane può coprire cinema può coprire fumetto può coprire storia della cultura storia to cure storia ambientale no di cose riferite all'Italia l'italianistica è letteratura italiana no è nostro è un volume che di fatto di letteratura si occupa diciamo così per un 50% e per 50% si occupa d'altro quindi anche in questo senso sì non è una ricezione non è una ricezione scontata diciamo c'è tutta una serie di piccole secondo me incomprensioni ma anche proprio di natura neanche disciplinare anche un po' un po' ma amministrativa volendo che siccome possono fare un pochino d'ostacolo a lettura di questo libro sì qua da noi ecco bene leggo una domanda dalla chat di Arianna c'è anche c'è anche una mano alzata vedo magari sì scusa Michela leggo la domanda di Arianna poi ti lascio la parola Arianna dice grazie curatori per il dialogo davvero molto interessante mi piacerebbe porre la mia domanda a voce ma appoggiandomi dice la mia domanda riguarda il rapporto tra le scrittrici e il gotico avete individuato nomi di scrittrici note e meno note che in maniera più o meno assidua intrecciano legami col gotico beh ci sono siamo è un discorso sto andando a riprendere anche sto sfogliando il volume sì c'è un diciamo così sono questioni ci sono delle figure ricorrenti diciamo così nel volume al di là anche delle autrici di cui si occupa Morena nel suo capitolo magari può dire due cose beh ovviamente c'è un'autrice che in realtà poi in questo nostro volume è menzionata meno di quello che dovrebbe senza nessun motivo particolare ecco se non così un po' probabilmente la decisione degli autori dei singoli capitoli poi di andare altrove che è Carolina Invernizio io per dire ho dedicato parte del mio capitolo a Chiara Palazzolo che è una scrittrice di narrativa direi neogotica morta all'inizio degli anni 2000 anche abbastanza giovane autrice di diciamo di lavori di lavori interessanti dopodiché naturalmente per esempio Francesca Billiani nel suo capitolo che è dedicato al appunto al film ai gothic paradossalmente non si occupa di di autrici se non di passaggio perché si occupa di fosca si occupa di senso di boito e si occupa di si occupa di fosca e di boito ah sì di malombra e naturalmente c'è il capitolo di Katrin Ramsey Portolani che stavo per dire e che è dedicato anche al lavoro di Matilde Serrao Matilde Serrao è un'altra autrice diciamo centrale nel canone di un di un gotico femminile italiano quindi sì ecco c'è sicuramente una serie di autrici la scelta ecco secondo me di raccontare invece per esempio nel capitolo di Francesca Billiani di parlare di film al gotico parlando di male gaze sostanzialmente relativa alle roine del romanzo gotico italiano è comunque diciamo così altrettanto altrettanto interessante altrettanto produttiva però sì ecco all'interno del volume emergono emergono sicuramente ecco delle figure di autrici su Matilde Serrao che appunto è in parte la mano tagliata se ne occupa insomma in maniera significativa il capitolo di Catarina che Marco ha citato dovevamo avere un capitolo sul gotico domestico e su Matilde Serrao poi il capitolo è saltato per motivi come in realtà più di un capitolo è saltato in realtà nella nostra visione iniziale c'erano almeno due pezzi in più che poi purtroppo come succede spesso in questi in questi volumi poi soprattutto durante il covid perché poi il volume è stato concepito in quel periodo sono saltati per motivi personali però sarebbe stato appunto un capitolo in cui Mattilde Serrao sarebbe stata centrale compare è vero poco Carolina Invernizio penso di menzionarla nel mio capitolo sul periodo tra 1861 e 1914 dove anche Fabrizio ne parla parla è vero inizia il suo capitolo parlando dell'atroce visione che è l'ultimo romanzo pubblicato subito prima della morte nel 1915 però sì ovviamente c'è una significativa tradizione di testi che poi arriva fino ad oggi non solo con le autrici tu parli solo di Chiara Palazzola parli anche di altre autrici nel tuo mi sembra di sì e anche o quantomeno forse di regista non mi ricordo però comunque ovviamente la tradizione contemporanea che non mi compete che non conosco però sicuramente emerge tutta una linea che parte quantomeno dal primo ottocento adesso non so se Morena ci vuole dire qualcosa che arriva fino ad oggi sì io mi sono occupata di Diodata Saluzzo di un paio di suoi racconti appunto che ripropongono sempre appunto riprendendo molte delle influenze no di dei romanzi soprattutto inglesi insomma tradotti in quel periodo e lei comunque è un'autrice anche dimenticata ma importante in questo senso ma volevo chiedere a Catherine se voleva magari intervenire aggiungere qualcosa sul suo capitolo a proposito di Matilde Serau buonasera a tutti buonasera 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 a proposito in generale del mio capitolo prego siccome appunto la domanda riguardava appunto le scrittrici il rapporto della scrittrice e gotico non so se volevi magari aggiungere qualcosa su quello che hai scritto la mano tagliata di Matilde Serau sì certo allora il mio capitolo sul gothic body quindi guardava come la rappresentazione quindi del del corpo in particolare femminile penso di aver esaminato solo corpi femminili tra cui un esempio più classico quindi Fosca però nel romanzo di della Serau era c'era questa la mano tagliata era un esempio bellissimo della decostruzione diciamo del del corpo femminile in particolare attraverso questa mano femminile che tagliata da quindi staccata dal corpo del protagonista e prende diventa un oggetto fetish nel romanzo e c'è tutta questa storia quindi di quasi un quasi poliziesco intorno a a questa mano e l'ossessione intorno a questa questa mano quindi era un esempio che di come il corpo femminile alcune opere di questo filone diciamo di quel periodo viene oggettificato e fetticizzato insieme ad essere oggetto di decomposizione di modo di un esempio di denegrazione della femminilità ok bene grazie Michela Michela Bertossa prego buongiorno a tutti in realtà è una domanda molto simile però si orienta piuttosto sull'audience ero interessata a sapere se il gotico nell'ottocento inizio novecento veniva percepito come un genere per le donne donne specialmente della piccola media borghesia e se questa sia una delle ragioni per cui non veniva considerato come un genere da canonizzare all'interno della letteratura italiana ma allora grazie grazie per la domanda diciamo che io credo che è difficile rispondere con certezza ovviamente quando si tratta di questioni di ricezione quello che possiamo dire è che comunque sicuramente i testi non venivano percepiti come gotici ecco questo è una cosa su cui possiamo essere abbastanza sicuri c'erano altre etichette e l'etichetta che se pensiamo a un certo tipo di romanzi Francesco Mastriani e Caroline Bernizio che sono i principali autori insomma di un certo tipo di testi tra 8 e 900 è quella del romanzo sensazionale o anche del melodrama comunque testi che sono al confine tra tutta una serie di discorsi principalmente quello del romanzo sensazionale è vero che una parte significativa dell'audience erano era almeno si dice quantomeno per i romanzi di Caroline Bernizio poi comunque lei partecipava anche a determinati eventi non solo culturali era una figura che io chiamerei anche intellettuale e che si rivolgeva a un pubblico anche di donne molto ampio come lo stesso anche riguarda i testi ci sono anche delle interviste a Caroline Bernizio in cui le chiedono che tipo di audience pensava di avere e ovviamente le donne sono al centro dei suoi pensieri non so quanto fossero ad esempio nei testi di Mastriani quanto fosse la leadership femminile questo è difficile da dire c'è poi sempre tutta una questione e dei ragionamenti su il livello di alfabetizzazione del paese dopo l'unità e qui Gabriella Romani potrebbe dirci qualcosa di più perché sicuramente io sono un po' meno competente da questo punto di vista decisamente se c'è una connessione tra un certo tipo di romanzo sensazionale gotico meno drammatico che vogliamo e la sua marginalizzazione perché un pubblico principalmente femminile fosse appunto il soggetto della fruizione si può speculare si può speculare io credo che sia difficile rispondere positivamente credo serva una ci potrebbe essere potrebbe essere soggetto di un'analisi non so Marco cosa ne pensa anche magari sentire cosa ne pensa Gabriella Romani sì no io non ho molto da aggiungere diciamo sì effettivamente il volume non va a toccare questa questione anche appunto in mancanza almeno insomma nella conoscenza di dati dati insomma non è una cosa che poi ecco abbiamo abbiamo toccato chiaramente diciamo in un ipotetico allargamento o in un ipotetica versione 2 di questo libro i pubblici del gotico sarebbero cioè questa è un'analisi che sarebbe stata molto molto interessante non soltanto adesso al di là della questione di lettori o lettrici e così via per esempio in generale chi consuma questi testi chi li legge chi va a vedere questi film effettivamente è una questione è una questione è una questione interessante però sì non l'abbiamo non l'abbiamo affrontata affrontata direttamente e io non saprei dare una risposta una risposta più precisa insomma sono stata chiamata in causa non so bene neanch'io penso di avere una risposta credo però che la la questione della ricezione sarebbe veramente molto interessante da vedere è difficile da mappare non c'è dubbio che sia da quelle che sono diciamo le dichiarazioni ma anche le statistiche dell'alfabetizzazione femminile soprattutto del secondo ottocento c'era una presenza femminile molto forte nella ricezione c'era anzché una coscienza da parte degli autori che scrivevano sapevano spesso a chi si stavano rivolgendo e usavano anche delle strategie all'interno delle loro narrative coscienti diciamo di una certa ricezione certo risalire ai come dire una mappatura molto precisa di questo panorama non credo sia molto facile ma sarebbe molto interessante se non altro da iniziare credo che porti anche non solo quello che è stata la grande influenza della letteratura europea sul discorso dell'affermazione del romanzo italiano che sia storico o gotico quello che sia ma anche vedere in che modo i lettori ricevevano certe idee che passavano attraverso questi testi quindi complimenti per aver iniziato questo dialogo questa conversazione secondo me molto proficuo non solo per far conoscere meglio il gotico ma anche per far conoscere meglio quella che è stata la storia del romanzo italiano a partire dall'inizio dell'ottocento secondo me va contestualizzato molto anche proprio all'interno di quelle che sono state le repressioni e le normalizzazioni di certe di certe idee ma anche di certe tradizioni di un certo genere del romanzo italiano quindi grazie anche bellissima presentazione complimenti sì grazie grazie davvero direi che appunto finiamo su questa nota su il tanto lavoro che ancora c'è da fare ma anche appunto sono temi appassionanti l'abbiamo visto anche insomma dalle domande volevo ringraziare ancora nome di ottocentismi Marco Malvestio e Stefano Serafini grazie a voi grazie per questo libro in bocca al lupo e niente to be continued grazie grazie a tutti per aver partecipato e come dicevo il nostro prossimo evento sarà organizzato insieme all'AIS il 13 aprile e manderemo maggiori informazioni appena appena le avremo grazie grazie a tutti grazie 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 Marco grazie Stefano grazie a tutti grazie a tutti